Abbiamo visto dalle sequenze dell'Olivetti che la cosa fondamentale delle aziende sono le persone che ci lavorano, i nostri collaboratori e su questo noi scommettiamo molto sempre sui giovani perché quando un giovane entra da noi e ha buona volontà non deve avere più competenti perché le competenze si formano poi lavorando e noi facciamo moltissima formazione per affiancamento per tutti per cui l'importante è la forma prima è la voglia di imparare, quello è fondamentale perché come dicevo abbiamo puntato molto oltre alla manualità dello stampaggio che per noi è fondamentale, ma nell'automatismo ci vuole il cervello e ci vuole spere, primo progettare le attrezzature, secondo poter intervenire sui macchinari e sui macchinari soprattutto automatizzati e quindi la qualità del lavoro cambia, cambia ed è fondamentale della formazione. Per noi la formazione base sono i periti meccanici o sono gli ingegneri, però anche in molti casi c'è venuto che dei ragazzi senza grossa formazione, neanche perito ma con la scuola dell'obbligo l'anno due di formazione di disegno, sono venuti ma con la voglia di imparare hanno fatto degli scalini incredibili. Questo è un po' la nostra forza anche di informare la gente, come dicevo perché la nostra forza sono le maestranze e la gente che collabora con noi.